Sono le 18.34 del 7 febbraio 2023. Mi trovo qui davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, Comune Luco dei Marsi. Ammiriamola, incantevole, suggestiva, bella. La prima volta che vengo la sera qui, qui sotto c'è il cimitero, il piazzale, c'è pace, c'è tranquillità, la benzana, le luci. Ammiriamo qui, sì, la parte estrema nord del Comune Luco dei Marsi, in grande ora, eh. Andiamo da questa parte, percorriamo qui, bella st'illuminazione, eh, suggestiva. Qui poca gente ci viene la sera. Io non ho paura della notte. A proposito, ecco il cimitero. Qui si vede qualche lambatina dell'oculi. Vedete? Va bene. Questa è stata una domanda. Comune.